Buongiorno a tutti, oggi parleremo nella rubrica domanda e risponde di un argomento di estrema attualità. Rientra a scuola al 100%, regole e deroghe. Passiamo alla prima domanda a cui daremo risposta. Si dice che il 26 aprile 2021 sia la data indicata per la riapertura delle scuole di ogni ordine e grado, al 100%. La confusione è tanta, ma cosa c'è di vero? Diciamo che al momento è ancora in vigore il decreto legge numero 44 dell'1 aprile 2021, che andrebbe a scadere il 30 aprile. Però sappiamo che dal 26 aprile ci sarà un nuovo decreto legge sostitutivo che ci accompagnerà fino al termine dell'anno scolastico 2020-2021. Sappiamo anche che l'emergenza del contagio del Covid rimarrà fino almeno al 31 luglio 2021. Quindi dal 26 aprile è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia, ma ci sarà anche assicurata l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado, nonché delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado almeno per il 50% della popolazione studentesca. Probabilmente le zone diciamo rosse ci sarà la scuola in presenza per almeno il 50% della popolazione studentesica e per il massimo del 75% degli studenti di una scuola. Per le zone invece gialle o arancioni questa percentuale viene elevata da un minimo del 60% a un massimo del 100%. Queste percentuali verranno poi gestite dall'autonomia scolastica mantenendo i paletti della situazione minima di studenti che dovranno obbligatoriamente riprendere in presenza. La seconda domanda a cui daremo risposta è la seguente. Per gli alunni e docenti fragili ci sarà la possibilità di non rientrare in presenza? Beh a questa domanda dobbiamo attendere che dopo il decreto legge che andrà in gazzetta ufficiale venerdì prossimo ci sarà una nota del ministero dell'istruzione a firma di Stefano Versari capo dipartimento del MI per chiarire anche il punto di docenti e alunni fragili. Sicuramente si prevedono delle deroghe che consentiranno agli alunni fragili di poter seguire a distanza. Per i docenti fragili vedremo perché questo potrebbe dipendere anche dal fatto se sono o non sono stati vaccinati. Rispondiamo alla terza domanda. Il distanziamento nelle aule dovrà essere sempre di un metro tra le rime buccali dunque tra alunno seduto nel proprio banco all'altro alunno seduto nel banco vicino ci dovrà essere almeno un metro per le rime buccali e le regole sulla sicurezza saranno modificate? Beh il distanziamento tra alunni seduti resterà di almeno un metro tra le rime buccali ma sarà obbligatorio indossare la mascherina per l'intera permanenza dei locali della scuola. Probabilmente saranno anche modificate le regole di sicurezza in funzione delle varianti presenti nel nostro paese. Speriamo che questo video vi sia stato utile seguiteci ancora perché tratteremo l'argomento del rientro a scuola nelle prossime giornate seguiteci nei nostri canali social facebook e youtube. Un saluto a tutti quanti